Allora, cosa ne pensate del cinema italiano di oggi? Allora, io penso che rispetto a un paio di decenni fa sia molto calato e quindi ci vorrebbe anche un ritorno al vero cinema che Fellini penso che sia innegabilmente un artista. Per il resto, sì, ci sono dei bravi attori, penso che non ci sia molta cura nei dettagli, quindi nelle sceneggiature, nel modo di recitare, in questa cosa qua. E invece il suo film preferito di Fellini? Ma non ho accorto, per forza di cose, insomma, anche uno dei più famosi penso. Sì, sì, ok, grazie. Grazie a lei, buona giornata.